Buonasera, benvenuto a Cielo Candrezzi. Sua santità, sua santità, che piacere, grazie, grazie. C'è il pubblico, e beh la RAI è la RAI, c'è il pubblico. La musica, riapplaudite per favore. Sì, mi piace molto sentire. È una musica, dopo un lunghissimo periodo di silenzio. L'applauso è tutto per lui, eh. E di tristezza, lo credo bene. L'applauso ovviamente è per lui. Il 1997. Sì, quello era il 1997. Un festival che è rimasto nella storia, non solo perché appunto sono rimasto appeso per aria per cinque sere, ma perché nel dopo festival io sponsorizzai lui, che fece un dopo festival orribile. Ma io ne sono irresponsabile. Per una volta hai ragione. Un disastro, poi mi sono rifatto qualche anno dopo. Ma quello fu un assoluto disastro. No, poi invece no, perché poi nell'insieme, sai, si vince tutti insieme, si perde tutti insieme. Tutti insieme, va bene. Allora, Piero Cambretti è venuto a parlarci di Chiambretti, autobiografia autorizzata dalla figlia Margherita. Sì. Che è una ragazza di dieci anni. Una bambina di dieci anni. Una bambina di dieci anni. Sì, chiama la bambina un altro po' per vedere che ti dice. È già più alta di me, ma ce ne vuole poco. Ce ne vuole poco. Ed è un, però, un Chiambretti diverso, anche se noi rivedremo. Dunque, lui l'ha scritta perché siccome la figlia non sa che cosa è stato il padre, e lui imprudentemente ha scritto il libro per spiegarglielo. Sarebbe stato meglio un velo di silenzio sul passato. Sì, è vero. È vero. Tra l'altro, tra l'altro, io avevo ripromesso a me che non avrei mai scritto un libro per poter mettere sul mio biglietto da visita, che non ho, quello che scriveva l'amico Gianni Boncompagni. Non ho mai scritto un libro, non sono mai stato in Sardegna. Io in Sardegna ci sono stato. Il libro non l'avevo mai scritto, ma... Caduto anche su questo frutto. Sono caduto, sono scivolato sul libro, perché una serie di combinazioni belle e meno belle mi hanno portato in sette mesi di lockdown a mettermi a scrivere, grazie anche, come dire, alla spinta della casa editrice che ha chiesto di scrivere un libro. Io l'ho scritto senza contratto, senza anticipo, che sai quanto è importante, tu sei l'inventore della tipografia, di libri ne avrei fatti 400. Cioè, lui non vive con lo stipendio dello Stato, lui vive con i libri, e noi dobbiamo ringraziarlo, perché tutte le foreste si sono estinte per colpa sua. Devo dire che l'amico Gutenberg è stato veramente di grande incoraggiamento, ha detto prova, prova. No, quindi io dicevo, ho scritto un libro, non per guadagnare, tant'è vero che la promozione del libro parte con un mio consiglio, non compratelo, ma fatevelo regalare. Però ecco, non l'ho scritto per fare i soldi, come si dice, ma semplicemente per lasciare una testimonianza. Intanto a mia figlia e poi possibilmente a tutti quelli che vogliono leggere, scoprire, ritrovare i sapori di 45 anni, 40 anni di televisione, che hanno attraversato però 40 anni della storia d'Italia. Perché io ho avuto la fortuna, certamente meno di Bruno, che parlandone appunto da vivo è il migliore, però ho incontrato chiunque, come lui, come lui, dai Berlusconi ai Gorbaciov, dai Santi ai Fanti. E quindi è un libro, secondo me, che si può leggere con la massima serenità. Diciamo che è lo scritto col cuore, che dimostra che noi della televisione, che siamo dei mostri, abbiamo anche un cuore. Anche un cuore. Se ne accogliano quando vanno a vedere, lo trovano. Allora, sentiamo come le racconta Nadia Lese, e poi parleremo anche di un cambretti diverso. Vediamo. Non ci siamo occupati molto di Covid, però tutte le storie danno una grande emozione, anche qui, per esempio. Tu arrivi con l'ambulanza, si è rinespiegata, e poi cominci a capire cosa significhi non avere il sangue che arriva nel cervello. L'ossigeno nel cervello. L'ossigeno nel cervello che non sei completamente annebbiato. Io poi mi sono veramente annotato questa frase. La maschera stretta sul naso, i lamenti dei vicini letto, gli occhi interrogativi dei medici che non sapevano che farmaci somministrarci, le condizioni di mia mamma, che piggioravano velocemente senza far nulla, rimangono stampati ancora oggi nella mia mente. Ti ha cambiato molto? Beh, insomma, diciamo che io ancora oggi leggo tutto quello che esce sul Covid, ma io faccio una differenza sostanziale tra chi l'ha vissuto in ospedale e chi lo ha fatto a casa. Per carità, non esiste A e B. No, no, esiste, esiste. Però diciamo che l'A è più della B. Entrare in un ospedale intorno al 16 di marzo del 2020, La gente moriva come mosche. Proprio entravano e uscivano, purtroppo, dritti, con una velocità impressionante. Sembrava veramente un fin di guerra. Gli ospedali, almeno l'ospedale nel quale ero io, avevano costruito un reparto di Covid nel pronto soccorso dentro i magazzini dove tenevano le medicine. E arrivavano di giorno e di notte, ce n'è un altro, entravano tutti terrorizzati perché nessuno di noi sapeva come ne saremmo usciti. E quando qualcuno guariva, io chiedevo ai medici ma come avete fatto? Ai medici non lo sappiamo. Io prendevo delle pastiglie, che era una cura per l'HIV, e prendevo queste pastiglie che però non avevano dato al momento nessun tipo di risultato. Dopo una settimana, che ero in ospedale, mia madre purtroppo non ce l'ha fatta, aveva altre patologie, e nella notte che è morta io sono guarito. E quindi si potrebbe gridare anche al miracolo, bisogna crederci, non crederci. Io penso che mia madre mi abbia ridato una seconda vita, perché l'avrebbe fatto per me come io lo farei per mia figlia. Credo che sia un cordone ombelicale che non si può tagliare. Quindi è un'esperienza che ovviamente non posso neanche immaginare per il peggior nemico. E senza voler fare la pubblicità per il vaccino, eccetera, dico che bisogna fare attenzione a trasformare tutto in un fatto politico. Perché qualcuno pensa ancora che il Covid sia come un'influenza, invece purtroppo è come un cancro, perché ti arriva velocemente e ti uccide come un cancro. Quindi io sono stato fortunato, io non so perché sono guarito, potrebbe essere un miracolo semplicemente perché ero sano e non avevo altre patologie. Però quei 18 giorni in ospedale mi hanno fatto capire come tutto è veramente molto relativo. Senti, tua madre scriveva poesie. Sì. Ha scritto alcuni libri di poesie. Sì, cinque libri di poesie di cui io ero l'editore, libri che vendevamo solo per beneficenza, che però avevano, secondo me, una qualità alta di letteratura. L'avevamo anche fatti visionari da diversi critici, diciamo, letterari e trovavano in felicità una grande forza espressiva. Guarda, io adesso ti prego di leggere questa poesia che si chiama Amore, che tu dici che trovo bellissima perché racchiude tutta la nostra vita di complici. Sì, perché questa poesia ha solo un preambolo. È praticamente la poesia che determina la nostra situazione. Io non mi vergogno nel dirlo. Forse nel 1956, 57, 58, quando sono nato e poi subito cresciuto così, poi non sono più cresciuto, io sono nato senza padre, quindi una ragazza madre che nel 1956 non era proprio bellissimo, non trovava da lavorare, aveva problemi con i genitori che l'avevano in qualche modo un po' rinnegata e quindi diciamo che è stata una partenza durissima per entrambi. Lei aveva 19 anni, quindi si può immaginare... Il tuo padre non si è mai fatto vivo? No, io non ho avuto il piacere di conoscerlo, ma poi col passare del tempo, avendo una madre che faceva, una doppia madre, quindi faceva anche il padre, non ho più sentito il bisogno e il desiderio di sapere chi fosse. No, non credo, no. Però insomma, è questa poesia... Adesso non ho gli occhiali, quindi mi diventa difficile leggerla. Aspetta un po', dov'è? Dovresti leggerla tu, perché non ho gli occhiali. La leggo io. Cioè, la posso leggere, ma la storpio almeno a metà. La leggo io. Amore, chiamo madre colei che mi generò, mi attaccò al seno, mi cullò. Non chiamo padre colui che mi generò, non amandomi, mi abbandonò, chiamo figlio colui che per amore non fece domande, non pretese risposte, non si raffrontò con la codardia malcelata su un volto senza nome. Molto bello. Sì, io non ho mai fatto domande. Non ho mai fatto domande e mia madre non mi ha mai dato delle risposte, perché non c'erano né domande né risposte. Eravamo una coppia. Difatti non è per me la morte solo di una madre, ma di un'amica, di una complice, di una mental coach, perché mi dava una mano anche nell'avere sempre quella determinazione che ci vuole per fare questo mestiere ad un certo livello, senza avere né una tessera di partito, né una famiglia importante, né i salotti romani che sono molto importanti per le relazioni. E quindi arrivare da Torino senza nessuno ed esserci ancora a Torino come a Roma stasera in una trasmissione come la tua, vuol dire che bisogna avere un certo carattere, una certa personalità. La tua consolazione è stata quella che tua madre era ricoverata, anche se tu non potevi dirle niente, al letto accanto al tuo. Sì, devo dire che nei primi giorni eravamo nello stesso stanzone, ma lontani. Poi l'ultimo giorno, ricordo che era un pomeriggio, ero nel mio letto in una stanza attigua a questo stanzone, dove ogni tanto ci spostavano per dare spazio ad altri, e venne una gentile infermiera che mi disse sua mamma non ce la fa. Il protocollo vorrebbe che staccassimo il casco a mezzanotte, però sta soffrendo troppo. Cosa facciamo? Io che ero molto intontito da quel problema dell'ossigeno, non avevo neanche capito benissimo che cosa mi stesse dicendo, però quando questa ragazza mi dice facciamola soffrire di meno, io immediatamente ho detto certo, e invece significava ben altro. E dopo pochi minuti, gentilmente, la mia stanza, la mia, la stanza nella quale ero, aveva tre letti. E in quel momento c'ero solo io, e il paziente a fianco l'avevano portato da un'altra parte, e quindi ho visto arrivare mia madre nel letto a fianco al mio. E quindi... Hai capito che erano gli ultimi momenti? No, 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 io non l'ho capito, perché ero veramente molto, molto intontito da questa mancanza di ossigeno che non permette al cervello di ragionare. Però capivo che era lì e quindi la cosa mi piaceva. Poi mi sono addormentato per, non so se è stato 15 minuti o mezz'ora. Quando mi sono svegliato di soprassalto, mi sono girato verso mia madre e ho visto una scena che non potrò più dimenticare. Quella stessa infermiera che metteva le dita qui al collo e niente. E poi, non so se le ha chiuso gli occhi, non lo so. E così è andata. Allora, ritorniamo al Piero Cambietti che... Sì, è meglio, perché poi ormai in tutte le trasmissioni si piange, invece non si deve piangere. Noi siamo qui per fare dell'evasione. Uno accende la televisione per evadere dallo stress delle nostre giornate di fuego, o no? Allora, evadiano con una memorabile chiembrettata del 1992. E qual è? Il portalettere con Francesco Cossiga. Sì, la vediamo o la raccontiamo? La vediamo. La vediamo. Presidente, presidente, porca miseria. Si fa prendere l'aspa. Eh sì, io aspettavo di là, invece lei arrivava di qua. Eh certo, ma... Ah, c'è anche il ministro Ortona, posso salutarlo? Assolutamente. Lo vediamo sempre dietro di lei con il suo lode. No, veramente è sempre davanti. Ah, sempre davanti? Non sembra, io l'ho visto dietro diverse volte. È fisicamente dietro, ma è sempre davanti. Ho capito, posso salutarlo? Molto lieto, molto lieto. Come? E trascurre il prefetto Musino. Ah, il prefetto Musino? No, non l'ho mai visto nella televisione. No, ma... Eh certo, perché lui è quello che deve stare invece dietro. Ah, dietro, ho capito. Ma Ortona, è veramente ministro o è solo portavoce? E tutti e due. Ah, tutti e due, ho capito. Io sono talmente importante... Sì? ...che come portavoce ho un ministro. Ah, ci picchi, è vero. E poi il dottor Andone. Ah, io lo voglio conoscere. Il consigliere parlamentare faceva parte della mia staffa al Senato. Ho capito, ma adesso quando lei andrà via vanno via anche loro o loro rimangono? Lui va ambasciatore... Eh, Portogallo, sì. Portogallo, sì. Con una buona uscita, mi sembra, eh. Gli diamo... Eh, gliela diamo una bella buona uscita. Se la merita, insomma, eh. Sì, è bella l'ambasciata. E poi è bello il paese, c'è un presidente. Lui, niente. Niente, lui mi sa che torna al paese? Lui, lui è calabrese. Eh, infatti, ma andiamoli in Calabria, là ce n'è da fare. Lui torna al Senato. Lui torna al Senato e lì è tranquillo. Questo è un pezzo, secondo me, importante per la televisione, perché credo che sia stata la prima e forse l'ultima volta, almeno fino ad oggi, che un guitto, un comico, un personaggio brillante incontra un presidente della Repubblica al buio, cioè senza un vero accordo. Lui mi diede appuntamento alle 15 in punto alla Casina Valadie, qui al Pincio. Senza chiedere domande, per un'intervista che è durata 30 minuti. C'è da dire che in quel periodo... Era il periodo in cui non era difficile, era il periodo dell'esternazione. Ma dico di più, il mio direttore allora, che era Angelo Guglielmi, non voleva che facessi questa intervista, perché giustamente osservava che essendo stato in televisione il presidente per 900 ore, nell'ultimo anno da picconatore, probabilmente avrebbe ripetuto le cose che aveva già detto, e invece no. E quindi l'intervista ovviamente mi diede molto risalto, e la cosa divertente che c'è anche nel libro, è che dopo l'intervista, un anno dopo, due anni dopo, tre anni dopo, la fine del suo mandato, lui mi chiamava in qualunque posto io fossi, attraverso la batteria del Viminale, e mi diceva, puoi far mandare ancora una volta l'intervista, tu che puoi? E io gli spiegavo che se avesse chiamato lui la RAI, forse aveva più possibilità di farla rimandare in onda, si divertiva moltissimo. Senti, a proposito di RAI, prima di andare a un altro memorabile pezzo con Marco Pannella, tu al Provino ti sei presentato in mutande? Sì, mi sono presentato in mutande semplicemente perché non credevo ai Provini, cioè io ho sempre pensato, ero un po' presuntuoso, ma anche perché a Torino, tu sai che è una città magica, bianca e nera, e una cartomante o un astrologa, adesso non mi ricordo, mi aveva detto che io sarei diventato comunque celebre, e allora io ho detto, se mi vogliono, mi vengono a cercare, non voglio far Provini, non voglio prendere la classica valigia, andare a Roma, aspettare nei bar, che qualcuno mi dica chi sei, vieni, presentati, eccetera. Quindi ho cominciato a lavorare soltanto a Torino, nelle televisioni più sgangherate, perché erano quelle che permettevano di sperimentare, che è una parola che oggi non si può più usare, ma all'epoca invece era fondamentale. Quindi quando a un certo punto un amico mio sente alla televisione che cercano dei ragazzi, scrive a mia insaputa l'iscrizione al concorso. Tra l'altro anche qui una scena, diciamo scritta, perché tutto secondo me, il caso non viene mai per caso. Scriviamo questa lettera di presentazione, andiamo in una piazza di Torino, piazza Bodoni dove c'è il conservatorio, e cerco di infilare la lettera dentro la buca, perché si mandavano ancora così. Colpo di vento, la lettera parte, fa due giri, tre giri, quattro giri e cade su una merda enorme di un bulldog. Allora io dico al mio amico che aveva spinto, io lo devo ringraziare, infatti io dico, vedi questo è il segno che dobbiamo lasciarla lì, invece il mio amico Arturo Villone, detto pistolone, che devo ringraziare perché insistente, prese la lettera Fortunella e la infilò con tutto il bulldog dentro la cassa. Allora, 1993, il programma si chiama Servizi Segreti, Marco Pannella. Sì. Innanzitutto grazie di essere intervenuto, le devo però comunicare che durante un interrogatorio i presunti rapporti di amicizia saltano, quindi vorrei sapere che fine hanno fatto le 200 mila lire che ti ho dato due anni fa per la tessera del partito, che non ho più rivisto, né le 200 né tantomeno la tessera. Intanto hai dato 320, hai dato. No, ne ho dato 200 di mio e 150 le hai avuto. E poi 50 mila le hai anche rubate al tassinaro, mi pare le hai date al tuo posto. No, e comunque... Quindi l'argomento scottava un po'. Scottava. Ecco, adesso anzi ti comunico che ci sarebbe da rinnovarla adesso per il 94. Potresti magari... No, io non ho una lira per il momento, quindi aspetterei un secondo. Potete... Scusami, potete anticipare queste cose da lui? Onorevole, io sarei anche disposto ad anticiparle. Se però in cambio mi ritorna la tessera, cosa che non ho avuto. La tessera non è mai arrivata a casa. Non è mai arrivata a casa. Mai a casa. E mi spiace. No, si vede che qualcuno del partito ha fatto repulsione l'idea di mandartela. Ma come? E sono degli imbecilli. Quindi questo partito che non c'è, qual è? Quello di Berlusconi o il tuo? No. Perché anche tu non si capisce di che partito sei. Io ti ho sempre seguito, ma non capisco più da che parte stai. Marco Mannella, che fumava... Anche allora non si poteva fumare, ma lui aveva il certificato di tabaggismo, per cui fumava qui, da tutte le parti, ovunque, ovunque. Gli interventi di studio di Piero Cambetti sono sempre piuttosto traumatici. E infatti lui fu ospite in una memorabile serata, quella che ha battuto. Ti ringraziai molto. Credo lo share storico. Penso storico tra i più alti. Allora, il 52% in seconda serata, non è facile, ma il calcio Belillo-Mussolini con Chiambretti che si buttò lì a pesce sulle due ragazze. E il calcio, il 72%, il 77% li c'è. Perché era stato annunciato questo calcio, era stata una polemica preventiva sui giornali. Non andiamo, andiamo in onda, non andiamo. Esattamente, tutti a guardarlo e naturalmente tu c'eri. Sì, no, ma fu bello perché era la puntata che Bruno decise di fare, leggera, sul bontone. E l'ex ministro Belillo e la signora Mussolini se le dedono invece di santa ragione. Io mi infilai in mezzo e riuscì a scansare un pugno che arrivò però a sgarvi, perché nella puntata del bontone c'era anche Vittorio. Allora, chiudiamo con, altra rubrica, va pensiero con Giovanni Trapattoni, nell'89. Non te la ricordai questa? No. Cosa faceva nel 1961 alle sei e mezza di un pomeriggio pievoso? Beh, probabilmente mi allenavo. Giocava nel Milan? Giocavo nel Milan e magari poi dopo l'allenamento trovavo il tempo anche di qualche piccolo relax. Con le donne? Anche con le donne qualche volta. Quindi Rocco ci teneva però molto in ritiro. In ritiro, la differenza invece dei suoi ragazzi che li vedo con donne, ragazze di colore. Eh sai, qui oggi siamo con un sindacato libro, quindi c'è l'assoluta professionalità. E quindi si fa un po'... E devono mantenersi loro. Certo, ma che cosa si prova a essere vincenti per natura? Tu sei nato con la camicia, ci dicono. Tu hai vinto tutto. Sì, ho vinto tutto, però quando ci ripensi, pensi anche di essere nato un po' con la camicia che ti è girato sempre bene, no? Hai visto con quale perfidia abbiamo messo? Siccomo Torino 0-1. 0-1. Grazie, grazie anche a nome di Cairo. Allora, chi farà da grande questa Margherita, questa bella ragazza? La bella bambina ancora, diciamo. Sì, non lo so, adesso ho ancora idee un po' confuse, perché è partita che voleva fare la cassiera in un supermercato. Poi è cresciuta e vorrebbe fare la veterinaria perché ama molto i bambini. Io spero anche che si occuperà di me, perché ormai sono anziano e spero che nonostante lei debba avere una vita tutta sua, e spero la più felice possibile, come per tutti i bambini di oggi, che saranno i grandi di domani. Spero che si ricordi anche del suo babbo. Tornando al libro, effettivamente, questo è un libro che io ho scritto proprio perché lei potesse imparare qualcosina, perché credo che qualcosa di buono nella vita ho fatto. La prima pagina del libro, oltre alla prefazione scritta proprio da mia figlia con una serie di errori che mia figlia si è arrabbiata moltissimo, che abbia lasciato, però c'è una frase di Andy Warhol che credo sia la sintesi non solo del mio libro, ma del concetto di artista. Se Bruno la legge, chiudiamo in bellezza, è proprio nella prima o seconda pagina. Prima o seconda pagina, adesso la cerchiamo. Un artista è uno che produce cose di cui la gente non ha bisogno, ma che egli, per qualche ragione, pensa sia una buona idea darle. Meglio di così. Senti, prima hai detto che tua figlia ama molto i bambini e perciò vuole fare la veterinaria. È un lapsus o era... Sì, effettivamente ama i bambini, ma c'è una battuta nel libro che lei ha voluto censurare se stasera vede il programma, rischia di andare in tutte le librerie e strappare la battuta. E la battuta è questa, qualche settimana fa. Margherita, tra poco è il tuo compleanno, dieci anni, sei contenta, facciamo la festa? E la risposta è stata sì, sì, l'importante è che non ci siano bambini. Cioè questa è la battuta. Grazie Piero. Grazie a Bruno. Auguri per il tuo futuro. Cento di questi libri. Bruno, scrivene ancora. Ciao, grazie. Auguri a Margherita. Grazie.